Musica Buongiorno e bentrovati. L'evento live di oggi è dedicato alla malattia d'Alzheimer, la più diffusa demenza senile che sta riscontrando a livello italiano per l'invecchiamento della popolazione un numero sempre maggiore di persone coinvolte. È una patologia che interessa da vicino le donne, per questo abbiamo deciso di dedicare questo evento. Donne che sono coinvolte non solo come pazienti ma anche come caregiver, con una gestione che è estremamente complessa e difficile. La famiglia spesso è il tessuto d'accoglienza di questi malati e quindi abbiamo invitato qui con noi il professore per poter dare dei consigli utili e per spiegare che cosa comporta la gestione quotidiana di questi malati. Il professore si chiama professor Roberto Bernabei, è direttore del Dipartimento per l'assistenza sanitaria di geriatria, neuroscienza e ortopedia presso il Policlinico Gemelli di Roma e presidente del Network Italia Longeva. Professore buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Innanzitutto le chiederei di tracciare una panoramica su questa malattia. La malattia di Alzheimer, come ormai si sa perché se ne parla abbastanza, è una malattia che sostanzialmente ammazza i neuroni e ammazzando i neuroni con un meccanismo di deposito di una specie di colla che va dentro e tra neurone e neurone, si chiama amiloide, questa colla impedisce che le normali funzioni ricordare, pensare, imparare, vengano espletate non solo, ma piano piano ti impedisce di interfacciarti con la vita e quindi di fare i normali gesti che sono quelli del vestirsi, dell'uscire, del riconoscere la propria casa o chi è che ti sta vicino, i tuoi parenti. Si comincia in genere con un disturbo della memoria, ma non è quelle che sono le dimenticanze benigne che abbiamo un po' tutti quando non viene in mente un nome o uno non si scorda dove ha messo le chiavi di casa e quando uno ha le chiavi di casa, ma non sa, non ricorda, non collega che le deve infilare nella toppa, nella serratura per aprire la porta di casa. Da quel momento in poi vale la pena preoccuparsi, ma certo è che la storia naturale di questa malattia è una storia che porta a regredire in modo importante fino a non essere più, almeno in apparente, contatto con il mondo, ma poi ne avremo modo di parlarne meglio. Quali sono i soggetti più colpiti? I soggetti più colpiti sono leggermente, la prevalenza è maggiormente femminile, ma questo non tanto perché è una malattia che voglia colpire le donne, ma è una malattia che è collegata con l'invecchiamento. Voi sapete, siamo il paese più vecchio del mondo insieme al Giappone e allora cosa succede? Siccome è una malattia collegata con l'invecchiamento, se invecchiamo in tanti e raggiungiamo in tanti gli 80, gli 85, i 90 anni, è una buona fetta di noi, prende la malattia di Alzheimer. Siccome le donne invecchiano di più e sono più capaci di essere longeve, e poi hanno anche questo rovescio della medaglia, siccome ci sono più donne, più donne che prendono la malattia di Alzheimer. I numeri sono imbarazzanti, perché oggi già in Italia c'è circa un milione di malati di demenza, se continuano le cose così, noi rischiamo tutti quanti di arrivare, di superare i 90 anni, già oggi una donna su tre muore dopo i 90 anni, di arrivare tutti ai 90 anni, ma la metà di essere dementi. Inquietante. Sono numeri impressionanti. Numeri impressionanti. Ecco, stava terminando? Sì, per dire, come tutto questo poi è successo in un arco di tempo molto breve, perché quando io ho studiato neurologia a metà degli anni 70, il libro di testo aveva dieci righe sull'Alzheimer, perché era una malattia di pochi, perché pochi raggiungevano queste età che oggi tutti raggiungono. Malattia quindi età correlata è l'altra faccia della medaglia di questa bella cosa che è l'invecchiamento o la longevità. Mettetela come vi pare. Ma oltre all'età ci sono altri fattori di rischio su cui è possibile, diciamo, lavorare? Ma qua è un, diciamo che la malattia è quella che capita da giovani, intorno ai 50 anni ha una forte componente genetica e quindi anche su questa non è che si possa fare molto. Però, e questo è un primo aiuto, il famoso esercizio fisico che viene tanto invocato e in effetti è la pillola migliore. Nel senso che anche per l'Alzheimer l'esercizio fisico ha, ci sono dei lavori recentissimi, dei dati ancora non pubblicati, ha un effetto anche nel ritardare la progressione di malattia, diminuire il rischio, non è che certamente si cura l'Alzheimer andando a correre per i prati o per i boschi, però aiuta e quindi vi fa capire come lo stile di vita da tutte le parti incida. È evidente che c'è non solo quella miloide di cui vi dicevo prima, questa gomma tra dentro e tra i neuroni, e c'è anche altro, ma insomma, tanto per capirci, darvi il segno di dove colpisce la malattia. Ma è evidente che anche poi ci sono dei fattori concausali, è chiaro che se uno ha la pressione alta, non la cura, oppure ha un'alimentazione sbilanciata sui grassi, sono tutte cose che aiutano o, come si dice, si sovrappongono alla malattia di Alzheimer e la favoriscono in qualche modo. Professore, che cosa significa seguire un malato affetto da questa patologia che può davvero assumere dei connotati di complessità e drammaticità nella gestione quotidiana? Beh, intanto significa averci una gran pazienza e averci una dose di carità per chi ce l'ha importante. E questo è un pezzo. Poi c'è un pezzo che è tecnico, che è quello di progressivamente doversi sostituire e dover compensare tutte le manchevolezze che mano a mano arrivano, fino alla fase finale in cui in qualche modo il rapporto è come quello con un neonato, nel senso, il neonato se non ha la mamma o qualcuno che lo accudisce H24 muore. E lo stesso un po' è il malato d'Alzheimer. Ma sempre, ed è questa la cosa, a parte quello che dicevamo prima, la pazienza e la carità, la cosa è che questa è sempre una persona. E la persona come tale ha sempre il diritto di essere rispettata pienamente. Perché poi noi non sappiamo bene, perché è difficile cosa c'è dentro quella testa, cosa è rimasto o cosa capisce. Ma certo è che se uno si dà la regola del rispetto, il rispetto protegge da qualsiasi fesseria potremmo fare. Professore, quali sono le competenze e le conoscenze necessarie che devono costituire il bagaglio fondamentale di queste donne che si occupano dei familiari in genere affetti da questa demenza? Ma non è che servono cose particolari. È evidente che partecipare a minimo di formazione, oggi ci sono vari corsi che vengono fatti, può aiutare. Ma è evidente che serve intanto intelligenza e cuore come dappertutto. Ma poi nel vicariarsi, nel sostituire le manchevolezze, gli cedimenti, le incertezze, insomma non serve una competenza particolare se non l'attenzione, soprattutto ovviamente nelle ultime fasi, a tutti i problemi alimentari, hanno grossissimi problemi alimentari nelle ultime fasi e quindi lì bisogna cercare di dare e fornire un'alimentazione che sia la più costosa.